Roma Videoclip 2015, eccoci qui, ci troviamo con il bravissimo Federico Zampaglione, ciao Federico come stai? Eccoci qui e ci troviamo anche con una grandissima persona, un grande campione anche lui Emiliano Mazzilli, ciao Emiliano, ciao a tutti, ricordiamo campione del mondo, ci sono vari campioni quello del mondo è più raro, dal primo di agosto da campione europeo è diventato campione mondiale un match molto difficile, molto teso, ma veramente molto bello, io approfitto per farti i complimenti Emiliano grazie dei complimenti, è stato difficile, abbiamo vinto tutti insieme anche con la collaborazione di Federico Zampaglione che mi ha dato una grandissima mano pure per attrezzare il match con la collaborazione sua e degli altri l'Unione fa la forza e siamo riusciti a vincere questo mondiale è quello che manca un po' anche in Italia per non fare i soliti discorsi, l'Unione fa la forza abbiamo la team TM Promotion che sta andando molto forte grazie a tu che hai promosso questa iniziativa sì, TM Promotion riguarda anche Giorgio Chimenti che è il mio socio, abbiamo cominciato tutto con il match di Marsili è stato un grande successo, è venduto in tutto il mondo, un titolo mondiale riportato in Italia adesso siamo in attesa della conferma della WBC per un altro mondiale importantissimo che probabilmente faremo a Las Vegas nei prossimi mesi non ci dimentichiamo che Marsili è uno dei più grandi pesi leggeri della storia di questo paese ma questa cosa non la dico io ma le dicono proprio le classifiche a livello internazionale e i risultati ottenuti, 32 match e 0 sconfitte sempre con grande umiltà certo, la prima cosa poi abbiamo visto l'inizio del match veramente all'americana, lo possiamo dire, molto carico con l'ingresso cantato da parte tua sì, ha funzionato tutto al meglio, è stato un bellissimo match competitivo con un pugile messicano che ha rispettato come dire la grande tradizione dei pugili messicani quindi grande coraggio, grande cuore lottano fino all'ultimo secondo Marsili ha dimostrato che il cervello, l'intelligenza, il movimento sul ring fa la differenza abbiamo vinto un match difficile con un avversario tosto ma non a caso appunto adesso puntiamo ancora più in alto ecco, qualche anticipazione? sicuramente faremo il mondiale con Linares io penso entro 6-7 mesi siamo nelle posizioni più alte del ranking mondiale e quindi ci spetta di diritto la posizione dei sfidanti ufficiali a questo match ecco, ricordiamo i contatti della TM Promotion scusa? i contatti della TM Promotion sì, su Facebook ovviamente poi il match è organizzato dalla OP2000 da Salvatore Chierchi, dalla Lega Pro Box che sono comunque le entità ufficiali che poi si occupano di questo noi con la TM ci occupiamo soprattutto di comunicazione e di promuovere l'evento nel modo adeguato e insomma poi coloro che fanno veramente che mettono le carte in tavola sono Salvatore Chierchi che saluto e ringrazio e la Lega Pro Box ecco, oggi ci troviamo Roma videoclip 2015 dove sei vincitore ecco, ti trovo vincitore per la tua musica e per il tuo videoclip sì, è un grande onore ho vinto i due premi diciamo di punta del festival miglior regista e miglior video tra l'altro con il video non mio ma di un collega che è Biaggio Antonacci che saluto ciao Biagione ti voglio gran bene ah 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 insomma abbiamo vinto questi premi abbiamo fatto questo video col cuore perché ci siamo incontrati una sera lui mi ha fatto sentire il pezzo io gli ho detto che avevo l'idea è il risultato di questa bella serata e ce lo portiamo presto qui stasera ok, allora io vi ringrazio grazie dell'emozione che tu dai e grazie ancora anche a Emiliano ciao 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 grazie a tutti ciao